Che bello uccellino hai liberato. Chi sei? E perché eri rinchiusa in questo carro? She lost! Scozzese, come immaginavo. Scozia. Siamo più lontani da casa di quanto pensassimo. Dove mangiano gli ometti del nord come te a colazione? Sarà meglio andare via. Il nostro insediamento più vicino deve essere a sud. Due, forse tre giorni. Non ci faranno mai entrare a mani vuote. Noi non siamo a mani vuote. Guarda questa spilla. E il ricamo dorato del suo vestito. Questo è un uccello di razza speciale. E gli uccelli speciali valgono una ricompensa speciale. Sufficiente a pagare per tutti noi. Sicuramente. Non ho ragione. Ciao da Valeria. Oggi parliamo di Disney e vi dico che sono in programma ben 21 film in uscita nei prossimi tre anni, contando tutte le produzioni della Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar. Tra questi ci sono Zootopia e Moana, che usciranno entrambi in 3D nel 2016. Zootopia uscirà il 4 marzo ed è un cartone ambientato in una sorta di Las Vegas abitata da animali e ha per protagonista una volpe dalla parlantina veloce che, accusata per un crimine che non ha commesso, collaborerà con un coniglio poliziotto. Moana invece uscirà il 23 novembre 2016 e racconterà la storia della figlia di un celebre navigatore polinesiano. Scaricate la nuova app di Film is Now, disponibile sia per iPhone che per Android. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.